Carissimi, al termine di quest'anno, il 2017, così importante per me e per voi, quindi voglio rivolgere a tutti il mio più sincero ringraziamento per tutto l'affetto che mi avete dimostrato nell'accogliermi in mezzo a voi e per tutte le preghiere che avete innalzato per me. Bene, sono felice di essere qui e insieme a voi voglio prima di tutto ringraziare il Signore per tutto quello che ci ha donato in questo anno benedetto. Imploro su di me e su di voi la benedizione dell'Altissimo perché il nuovo anno che sta per cominciare sia per tutti pieno di pace e di opere buone. E che la nostra amicizia con Gesù cresca sempre di più, cosicché il cammino che stiamo compiendo dietro di Lui, anno dopo anno, sia sempre più spedito e sicuro sotto la mano potente dello Spirito Santo. Vi voglio bene, buon anno 2018. Dio Santissima Trinità sia sempre con voi e vi benedica sempre.